non sempre ma spesso dietro la superficie di un episodio di cronaca nera si celano storie che richiedono alla letteratura di essere raccontate e quanto accade nell'ultimo libro di maria grazia calandrone magnifico e tremendo stava l'amore edito dai naudi il fatto il 27 gennaio 2004 dopo 20 anni di violenza subita luciana uccide l'ex marito domenico e insieme al compagno ne getta il corpo nel fiume tevere calandrone ripercorre con la sua prosa poetica la vicenda fino ai suoi esiti giudiziari un'opera che non assume esclusivamente il punto di vista della vittima e cerca di comprendere le ragioni della violenza ho cercato di raccontare la motivazione per cui una donna dico per sintetizzare in gamba rimane in una situazione di violenza pur avendo anche quattro figli ma di che amore parliamo è un amore malato è un amore che è un amore che si è corrotto e che però sicuramente lei rimane sempre amore non è la cosa che mi ha che mi è piaciuto molto di questa donna e la sua nobiltà cosa provoca la violenza di domenico ma in questo caso specifico è la frustrazione il fatto che lui non riuscisse a sopportare l'idea di essere meno di lei c'è poi un contesto c'è il immaginario degli anni 90 che è l'immaginario del soprattutto dell'uomo vincente l'imprenditore che ce l'ha fatto dal crollo della fiducia nella politica e quindi tutto attribuito al successo individuale questo sicuramente ha influito moltissimo sulla psicologia di domenico sul suo desiderio di essere no dimostrare di essere più di quello che era e poi però c'è la mancanza della legge sullo stalking all'epoca non che la legge sullo stalking sia risolutivo come non è risolutivo il codice rosso come non sono risolutivi neanche gli aggiustamenti perché nessuno può realisticamente piantonare le case di tutte le donne in pericolo grazie